Schio. Giovedì sera alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti in contrazovi per l'incendio di una vecchia struttura rurale abbandonata, fino a qualche anno fa adibita a stalla con soppalco per il fieno. Le squadre di pompieri a corsi da Schio e Vicenza con tre automezzi e sette operatori sono riuscite a circoscrivere le fiamme alla stalla abbandonata, evitando l'estensione del rogo alle case adiecenti. Le cause sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate a notte fonda. Due ville. Grazie al sistema di monitoraggio elettronico del territorio, gli agenti della polizia locale del nord-est vicentino hanno rinvenuto una fuoristrada senza assicurazione e con il leasing scaduto da tempo. La macchina, una Jeep Grand Cherokee del valore di 50.000 euro, era infatti senza assicurazione da febbraio ed è risultata essere oggetto di una denuncia per appropriazione indebita. Una persona l'aveva presa in leasing tramite un'azienda fallita poco dopo e la vettura veniva prestata ad amici e conoscenti ignari della situazione. Sul veicolo gravava un ordine di sequestro preventivo di natura penale. Belluno. Era arrivato fino al centro storico di Belluno per una gita, ma il vicentino di 58 anni che scorrazzava in sella il suo scooter era senza patente da sei anni. Agli agenti dei lavoranti della questura bellunese è riferito di averla dimenticata a casa, ma in realtà il permesso di guida gli era stato revocato addirittura nel 2013. L'uomo era già stato pescato senza patente ed è stato denunciato. Lo scooter, in conseguenza dell'illecito commesso, è finito sotto sequestro e verrà confiscato. Nanto. I carabinieri della stazione di Longare hanno denunciato un italiano e un cittadino del Bangladesh per il reato di truffa in concorso. I due avevano contattato un uomo di 55 anni, residente a Nanto, che aveva pubblicato in un sito di annunci la proposta di vendita di una pigiatrice per l'uva del valore di 200 euro. Il venditore, definita la trattativa, veniva indotto a recarsi allo sportello postamat di un'agenzia postale di Vicenza, dove, nell'errata convinzione di vedersi accreditato l'importo stabilito, di fatto effettuava una ricarica di 1000 euro a favore di una carta post e pay risultata intestata a uno dei due indagati. Grazie. Grazie. Grazie.